ah adesso mi tengo in forma e così divento un bravissimo tanghiero ho trovato il segreto in forma solo che non basta sai il solito discorso del contenuto e del contenitore è che non sia importante tenersi in forma ovvio che è importante ma non è sufficiente è un po come quando iniziai a fine del 1997 a ballare il tango io pensavo che insomma imparo a fare un po di struttura un po di sequenze che sono un contenitore e bene o male imparo a ballare il tango ma non funziona così sempre non funziona perché poi ti accorgi che il contenitore è totalmente insufficiente dell'apparenza quello che serve la sostanza la sostanza vuol dire entrare dentro le cose e quindi aggiungiamo benissimo la forma fisica l'apparenza tutto quello che ci serve però idea di riempire il nostro quotidiano tango di contenuti di vita di studio di approfondimento di musica è come se noi dovessimo riempire quello che dà valore mentre il resto non dà valore non funziona mica non funziona mica però puoi ballare tango uguale anche se non riesci a fare le trazioni seguimi il tango è qualcosa che riesci a maturare dentro a distanza di tempo io ti racconto la mia esperienza nei primi anni io sono assolutamente convinto che non entravo nella musica la usavo per muovermi ma non entravo dentro non riuscivo a trovare dentro di me il movimento generato dalla musica io stavo nella musica cercavo di lavorarci un po' dentro a me è sempre piaciuta molto la musica chiariamo l'interpretazione mi ha sempre interessato però l'interpretazione è frutto di elaborazione di ascolto riuscire a lasciare che la musica entri dentro di te e ti trasformi e tu l'ascolti in modo sempre diverso quotidianamente lo stesso è la relazione non prima ti accorgi prima vuoi avere degli obiettivi diciamo io faccio quello tu fai quello dai dobbiamo riuscire a fare sta figura sta struttura e poi ti accorgi invece con il passare del tempo che tu puoi fare solo alcune cose con delle persone e con altre ma poi delle altre e questo è meraviglioso questo è il tango e questo è vita questa è relazione relazione e ti accorgi che con qualcuno hai solo voglia di camminare con qualcun'altra persona invece vuoi costruire altre cose perché? perché ci sono esperienze diverse c'è una personalità diversa e questo è tango questa è relazione questo è ascolto questo è voglia di trovare una complicità musicale e questa è sostanza per tornare al discorso di prima non è apparenza questo è il contenuto questo non è il contenitore contenitore eh? dai oggi volevo dirti questa cosa ci vediamo al prossimo vlog vlog ciao mamma mia grazie a tutti